Lavoro anche io in una casa museo, quindi era un corso appropriato, un corso di formazione professionale, molto importante l'accento sulle emozioni che un museo può suscitare. Sono arrivati un po' da tutta Italia, la casa museo Ivan Bruschi sono gli addetti ai lavori del mondo dei musei per musei emotivi, un training formativo sulle nuove tendenze dei musei del XXI secolo. Noi pensiamo che sicuramente l'emozione o comunque il trasporto emotivo sia un veicolo importante, un meccanismo di coinvolgimento, però questo non deve ingannare circa gli obiettivi di questa iniziativa. L'obiettivo di questa iniziativa è usare la tecnologia in senso molto ampio, non solo quelle informatiche ma diciamo le tecnologie in senso ampio per far comprendere di più. Recentemente noi abbiamo fatto delle sperimentazioni in cui portiamo queste tecnologie sui dispositivi mobili, li facciamo indossare, per esempio facciamo indossare una telecamera che ci portiamo qua. Questa telecamera ha un terzo occhio che vede insieme ai nostri due, quindi è solidale con noi. Il dispositivo capisce se noi ci stiamo soffermando a guardare qualcosa. A bordo c'è un sistema di visione artificiale che è in grado di riconoscere quel qualcosa che la telecamera sta osservando e quindi anche noi stiamo osservando. Riconoscendola può andare a pescare l'informazione relativa a quel qualcosa e fornircela.